Mai come in questa lunghissima stagione di siccità e di problemi economici, bellici, sanitari e sociali, la devozione alla Madonna miracolosa di Fozza può dare un respiro di speranza. È quello che fa la solenne processione quinquennale, sospesa l'anno scorso, che dal 1836, anno del colera, rende grazie a Maria per aver protetto Fozza e i fodati dal morbo. Di questa antichissima tradizione e del rito sacro sull'altopiano dei Sette Comuni si parlerà sabato 30 alle 10.30 nella sede del Museo Etnografico. Alla presenza degli autori Luigi e Gabriele Menegatti sarà presentato il libro La Madonna miracolosa di Fozza, edito nel 2021 e ricco di storie e testimonianze sulla devozione mariana. Ne parleranno dopo il saluto del sindaco Bruno Oro anche Filiberto Agostini, Luigi Alberton, Giancarlo Bortoli, Sergio Bonato, Elisabetta Girardi. La Madonna d'Agosto, Madonna vestita o Madonna del Voto, è una statua piccola nelle dimensioni, ma grande nel cuore dei fedeli, che le hanno da secoli affidato gioie e dolori, speranze e fallimenti, vita e morte.